Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze di Packle e bentornati in questo nuovissimo fantastico video Allora oggi troviamo qui in compagnia della nonna che gioca E per la prima volta mia sorella Saluto Ciao E oggi ragazzi avevo in mente di fare lo slime Cosa che io non ho mai fatto Non sono appassionato allo slime Anzi mi fa proprio schifo Per questo oggi probabilmente vomiteremo Allora Dobbiamo andare al supermercato Vero se riesco a registrare E dobbiamo prendere insomma gli ingredienti Ragazzi siamo arrivati davanti al supermercato Siamo alla Conad Non perché stava facendo pubblicità Alziamo la mascherina e andiamo Vediamo se riusciamo a registrare nello supermercato Se non riusciamo Cos'è sto consiglio a B? Allora B? Non so se ha visto Dobbiamo trovare il colorante Che dovrebbe essere qua Riprendo appena lo trovo Lo trovo giallo e blu Sì Non c'è la schiuma Va bene ragazzi Abbiamo dovuto rifare la spesa ragazzi Allora Abbiamo preso tutto E adesso ragazzi Abbiamo solamente Ah no Ci manca la colla vinilica Che la cercheremo di andare a prendere O da un cinese O da una carzone Buonasera Con la vinilica Con la vinilica Con la vinilica Si chiama con la vinilica Noi siamo meglio calmi Con la vinilica Con la vinilica Vinilica Quella che si usa per le carte Per fare Ragazzi Purtroppo abbiamo sbagliato L'abbiamo presa piccolina E ci siamo scordati Che lo dovevamo fare Tutti e tre Lo slime Anche mia sorella Quindi Andiamo a prendere Quando era grande Infatti Ho detto anche mia nonna Che il discorso Il cinese Non l'aveva fatto Sbagliato Io non ci ho capito niente Magari Non l'ho capito Ragazzi Eccoci qua Stiamo per andare a preparare Gli slime Allora Innanzitutto dobbiamo mettere La con la vinilica Dal tutorial che ho seguito Vado io Vado io Facci Facci Non ciò che io addosso Si dai Adesso La mettiamo a Luisanna Girare Da che io me la verso Da sola Dove l'hai fatta andare Qua qua non l'hai mai giocato Perché è cool Adesso Dobbiamo mettere I Gli inzermani I coloranti Previventi Allora L'abbiamo rosso Che lo diamo a mia sorella Dammi il mio pesco Lo verso io Sì E Luisà Te lo verso Packel Addio Addio Amici Addio No Lo verso io Va bene Sotto Scusate Te lo apro io Aspetta Packel Che te lo apro io Verso un attimino Alla sorellina No Io No E yo Tipico Cucco Jack E yo Pipipipupu Cucco Jack See you Mujer Sotto A Il slime in 5 minuti, a fesse solita, sono già passati 30 minuti e adesso stiamo ancora questo sarà un video tutto da tagliare voglio sentire se è uno suono ma quello che dobbiamo fare sinceramente non lo so che bello e questo non doveva succedere guarda che bello guarda che ho fatto un uomo ecco qua, le do uno nuovo e mi prendo quello che è caduto nella ciotola grazie ma credi ce lo lascio così posso? si tanto, non è importante, ce li consumiamo questi ingredienti come ingredienti che stiamo facendo, dolce che figo però posso da te che... questo è il mio, io tra poco lo provo a stare nelle mani è andato al nonno blocca 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 avanti che è successo di lì? si è scaricata la batteria, vi aprile un caricatore non c'è una colleghiamola da sotto se c'è tipo una giobbatta sì ciao e blocca, blocca se no consumi batteria noi nel frattempo mischiamo vabbè niente, oramai è morto, non si può fare più niente ragazzi, purtroppo questo svegliamento è finito male ehhh che vomito l'abbiamo restato ieri riposare mattieri, pomeriggio è passato un giorno io vomito mi chiedo non lo giuro, guardate non lo giuro che non sto finito in gente ragà io sono molto sensibile di stomaco sono uno schifo totale ragazzi un fallimento siamo stati 45 minuti a girare la mano e questo è e questo è un po' Oh, 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 oh. c'è una cosa ragazzi abbiamo fatto un altro che è questo non lo prendo in una maniera non è flessibile maschi perso aiuto ragazzi aiuto non sto fingendo sto stando veramente male guardando queste cose allora io guardo dritte le telecamere non li guardo più non ce la posso fare lasciate like, iscrivetevi, commentate attivate la campanella e lo vedete su un video da pagale tutto già a pubblico